Tutte le settimane c'è un Focus, appunto, Focus Periferie, insieme a chi? Insieme a Walter Cherubini, da consulta periferie. Milano, buongiorno Walter. Buongiorno, siamo alla seconda puntata di quest'anno, ma la 172esima di Focus Periferie, che era iniziata nell'ormai lontano 2017. 2017 però, come passa il tempo. I tuoi capelli sono già bianchi, i miei sono diventati bianchi invece nel frattempo, pensa a te. Oggi è un incontro di cappelloni bianchi però, perché anche il nostro ospite presentacelo, anche se è un habitué di questi studi. Bruno Volpona, che è del gruppo culturale Il Giuscano di Figino, e quindi uno storico punto di riferimento periferico, mettiamolo in questa maniera, ma con uno sguardo cittadino. E direi da questo punto di vista la cosa è anche abbastanza importante, perché c'è l'iniziativa, il premio e la virtù civica Panettone d'Oro, e appunto Cori Milano per le Periferie, che è sostenuto nell'ambito dell'iniziativa di consulta Periferie Milano, però da una serie di realtà, che sono appunto il gruppo culturale Il Giuscano di Figino, sono il Clavicembalo Verde e la Corale Ambrosiana, è stato appunto, gli è stato riconosciuto il premio alla virtù civica, proprio per questa iniziativa Cori Milano per le Periferie, che ha avuto avvio nel 2011. E allora, tra parentesi, c'è in mano una pergamena, no? Che cos'è questa pergamena? Raccontiamola a chi non la può vedere, e facciamola vedere invece a chi la può vedere appunto nel nostro diretta. Così, così, alzala così davanti a te che si vede. Passala a me che la faccio vedere meglio. Maria, ti chiedo, eccola qua, grazie mille. Allora, è una pergamena, ventiquattresimo, giusto? Premio alla virtù civica, Panettone d'oro 2024, Cori Milano per le Periferie. Wow. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Cori Milano per le Periferie, perché è importante, specifica per le Periferie, non nelle Periferie. Siamo partiti nel 2011, per cui, come è scritto anche sull'attestato, e siamo partiti con quattro cori, con un'idea che è sorta, così, chiacchierando con Walter, visto che a Figino c'era, avevamo organizzato una rassegna che si chiamava appunto Musica Figino e abbiamo approfittato dell'occasione per invitare quattro cori, quattro cori che sono venuti in quattro domeniche diverse. e l'idea poi è stata ripresa anche da altre parti, per cui abbiamo cominciato a contattare altri cori, a contattare altre sedi, per portare la nostra idea, che è, se non ti dispiace, siccome io poi quando comincio a parlare, voi insieme. Allora, qui c'è scritto la giusta motivazione, mettere a fattor comune numerose e generose realtà di volontariato spesso sconosciute. Cioè, noi cosa facciamo? Chiediamo l'adesione ai cori che conosciamo, a Milano ce ne sono circa un 75-80, almeno questo prima della pandemia, perché ultimamente qualcuno ha dovuto lasciare. E nel frattempo cercavamo di avere notizie in zone ovviamente periferiche di attività culturali che potessero sfruttare la presenza di un coro per potersi presentare, per poter dare una mano a quella che poteva essere l'organizzazione dell'eventuale avvenimento. Siamo partiti con quattro a Figino. Do le ultime cifre. Sì. In 13 anni abbiamo raccolto le adesioni di 60 cori. Wow. un terzo dei quali di cintura, cinisello, sesto, da dove anche... Non sabrianza anche... L'avete sconfinato. Sì, non sabrianza. Anche oltre. Va bene, comunque. E siamo riusciti ad avere la disponibilità di circa 40 sedi diverse. Quanto? Sedi diverse che sono rappresentate da chiese, parrocchie, teatri, ma anche corti avete fatto cos'è? Ecco, bravo. È la cosa più bella che mi piace. Le corti. Addirittura abbiamo... Siamo riusciti ad avere l'aiuto di Bosco in città per poter effettuare un concerto en plein air, un concerto al quale io onestamente non pensavo partecipasse tutta con la gente, ma voglio dire tutta una serie di situazioni che non sono specifiche del teatro oppure della rassegna. Noi diamo una mano alle rassegne, ai teatri, offrendo appunto la disponibilità di questi cori. disponibilità che è gratuita perché tutta la nostra attività compresa la nostra di organizzazione non prevede nessun compenso di nessun genere. È proprio una voglia di dare una mano alle periferie. Alle periferie. È un volontariato civile, vado a dire, quasi un volontariato culturale, proprio di portare una volontà propria, una passione anche a farla conoscere a chi magari questa passione non la conosce. Walter tu l'hai voluto Bruno perché appunto questa è una storia da raccontare e da raccontare spesso e perché per te è importante partire da qui per raccontare le periferie? Ma proprio perché si parte dalle periferie partiamo da un dato così, un dato quadro. Ok. Nel 2020 cosa che è prevista che ci sarà a fine ottobre inizio novembre del 2025 sarà appunto programmato e ci doveva essere il forum internazionale della cultura nelle città. È stato rinviato e adesso è stato programmato. Allora, Milano è sicuramente uno degli esempi di promozione culturale che ci sono al mondo e infatti questo forum è costituito da 40 città internazionali quindi una realtà piuttosto significativa. Ecco, allora il problema è bene ma Milano si parla anche di equilibrio tra centro e periferia. Che tipo di apporto potrà dare a questo forum? Ecco, questo qui è il punto di partenza quindi anche il valore aggiunto che potrà dare consulta periferie Milano che non è un'organizzazione di promozione culturale musicale ma ci si occupa di periferia ma come diceva appunto Bruno è quello di riuscire a individuare tutta una serie di ricchezze che sono nella città nella città metropolitana anche e di metterle a fattor comune per le periferie questo qui è direi il punto di partenza perché appunto non è un'associazione di cori che promuove l'iniziativa coristica o cose di questo genere noi ribaltiamo un attimino il concetto e diciamo bene cori volete darci una mano per le periferie andando a cantare dove? Dove c'è necessità? Dove c'è qualcuno che è nelle periferie e dice sentite perché non mi date una mano? Ecco questo qui ribalta il concetto e per quello quando Bruno dice in 40 realtà in 40 realtà che si sono stratificate e stabilizzate nel corso appunto ormai di questo terzo lustro perché essendo il 2024 essendo partita nel 2011 ormai siamo nel terzo lustro ecco questo è il punto allora quando noi diciamo che mediamente ci sono 40 cori che partecipano ogni anno a questa iniziativa parliamo di circa mille coristi questo è il dato di fondo mille coristi che tra le altre cose hanno interessi e anche qualità professionali diversificate e quindi si sviluppa anche un rapporto sinergico perché se un architetto gli piace cantare però è anche architetto e quindi ci può dare una mano nella visione della struttura urbanistica periferica e quant'altro ecco questo direi che è lo snodo fondamentale e poi si risponde a quella cosa che hanno detto in molti portiamo la cultura nelle periferie portiamo qua c'è già non c'è da portare niente c'è da portare niente le giacchie ci colleghiamo da questo punto di vista rubo ancora un attimino di tempo a Bruno ci ricolleghiamo da questo punto di vista a questa iniziativa internazionale che ci sarà nel 2025 Milano perché nel 2000 al fine del 2021 peraltro in piena pandemia a Milano ci fu il convegno di Amateo che cos'è Amateo Amateo è una rete europea che mette in collegamento tutti i promotori di attività artistiche culturali coristiche teatrali cioè quel mondo dell'amatorialità ed è costituito da 58 realtà europee che fanno parte di 27 paesi è una rete con 27 paesi europei quindi piuttosto piuttosto ampia e appunto il tema di quel convegno fu la cultura europea riparte dalle periferie e fu anche lo sviluppo di un anno di lavoro dove tutte queste realtà europee si concentrarono sul tema delle periferie periferie da una parte cittadine ma periferie anche rurali perché chiaramente questo tipo di realtà ecco consulta Milano partecipa a questa realtà non perché sia appunto un promotore un attore teatrale o cose di questo genere ma perché ha una visione che all'interno di questo consenso è stata sprezzata è l'unica realtà italiana che partecipa a questo consenso dove normalmente sono presenti organizzazioni o regionali o europee quella inglese c'è un'associazione che raggruppa 3000 associazioni ecco questo qui è il livello della maturialità presente negli altri territori e invece in Italia la maturialità non esiste la maturialità culturale musicale o sei professionista o non sei nessuno esiste ma non è messo in rete non funziona quindi questi gestiti alla fine poi 400 concerti che sono stati fatti in questi anni mi hai rubato vai 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 sui 400 infatti 400 concerti non sono niente non sono pochi non sono pochi 400 concerti tutti entrata gratuita tutti offerti anche in zone diciamo non eccessivamente come si può dire su di livello e sono stati e lo sono e lo saranno secondo me ancora una realtà molto importante per socializzare per portare allegria perché anche un concerto in chiesa di musica sacra può sicuramente aiutare a non dico passare il tempo ma a concentrarsi su una cosa su su un avvenimento che magari in quel momento ti fa dimenticare tutti tutti gli altri problemi tutti i problemi che ci sono a livello personale a livello pubblico eccetera non lo so noi adesso stiamo stiamo già organizzando la sessione 2024 2024 che da qualche anno è divisa in due in due diciamo tempi la parte primaverile che partirà al primo di maggio ai primi di maggio fine aprile arriverà fino a giugno e tornerà ad essere attiva a partire da ottobre fino a dicembre questo fa capire che nonostante la motorialità comunque c'è da fare c'è da fare tanto c'è da organizzarsi in una città come Milano non è così prendo i miei 20 coristi 30 coristi vado a cantare in una piazza è complicato da un punto di vista da parte dei cori ovviamente non è che cantano solo per le nostre occasioni ovviamente però quello che mi piace è che per le nostre occasioni si danno in maniera non lo so per me è entusiastica nel senso settimana scorsa ho chiesto ai cori di darci perché noi annualmente chiediamo la disponibilità ai cori ma nel giro di due giorni mi sono arrivate 27 conferme wow adesso il mio problema è quello di trovare 27 sedi 27 date disponibili certo esatto ecco il mio grosso lavoro è quello è quello di coordinamento è quello di mettere a fattore comune appunto la disponibilità di uno e la richiesta di quell'altro per cui voglio dire sta andando bene l'idea sta andando bene e fortunatamente sta anche raggiungendo un po' la conoscenza non dei soliti non non degli addetti ai lavori eccetera se dà un po' conoscenza così che i cittadini magari lo capiscano anche bene e vengono sempre di più e oltretutto devo dire una cosa quello che mi ha fatto molto più piacere ultimamente è notare che molti dei cori che partecipano alla nostra idea quando effettuano altri concerti spesso e volentieri inseriscono un piccolissimo dettaglio partecipa a Cori Milano diventa quasi un marchio di qualità milanese non cittadina sicuramente di amore verso il territorio che viviamo e anche questo rientra un po' Walter su quel tema che tu spesso porti avanti che è quello della cura del territorio perché non è solo curare il tombino curare il cestino malconcio ma anche curare l'aspetto culturale di un territorio come quello della periferia milanese ma infatti il taglio che diamo non è quello della promozione musicale ma è quello dell'animazione sociale questo è il punto di partenza qualificante dove Milano non crediamo di esagerare ha tutte le risorse utili per rispondere a tutte le necessità il tema è la frammentazione allora il metodo di lavoro che propone Consulta Periferia Milano è quello della condivisione della messa a fattore comune perché nessuno di noi avrebbe avuto la capacità né è questo l'obiettivo di mettere in piedi questo ambaradan di Cori Milano per le periferie ormai da 14 anni con appunto tutti questi cori che vuol dire non solamente fare il calendario ma tutta la logistica prendere contatti anzi proprio perché se hanno contatti con il territorio si riesce a fare un servizio utile al territorio perché non è io vado in un posto faccio la mia iniziativa vengono punte vaste no il problema è il legame con il territorio infatti Consulta Periferia Milano con l'ambrogino che ha ricevuto uno degli aspetti significativi era promossa nel corso del tempo da 44 realtà associative formalmente ma con contatti con 150 realtà operanti sul territorio e proprio questa ramificazione e questo tentativo perché siamo ancora a livello di tentativo anche se un po' espresso di orizzonte cittadino e quindi di proposta cittadina perché le periferie hanno ma in generale un problema che è quello della frammentazione ci sono tante realtà che sono sconosciute questo è il tema fondamentale invece ci sono perché quando si dice portiamo la cultura nelle periferie portiamo la cultura nelle periferie noi abbiamo mappato sul sito periferiaemilano.com solamente di realtà diciamo così culturali artistiche 400 presenze dove abbiamo i teatri abbiamo le biblioteche abbiamo i centri culturali abbiamo abbiamo messo anche i cori perché giustamente siccome facciamo questa iniziativa e in questo sito ci sono i risultati di un lavoro quindi non è un sito dove c'è tutto 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 o un po' di tutto ma ci sono tutta una serie di specifiche quindi sappiamo che a Milano fuori dal centro ci sono tra amatoriali e professionali 109 teatri che nemmeno i teatranti lo sanno dopodiché abbiamo più di 60 biblioteche ci sono quelle comunali di condominio quelle delle associazioni delle parrocchie e quant'altro e ci sono anche abbiamo mappato tra associazioni e centri culturali più di 180 centri culturali questi fanno una proposta culturale significativa perché poi l'interlocuzione anche istituzionale vengono gli assessori di turno e dicono ma quante cose che ci sono non se lo dico tra di loro poi qui c'è un altro tema abbastanza interessante perché è questo anche in questo forum che ci sarà nel 2025 uno dei temi è quello del riequilibrio dell'equità ecco allora il paradigma della cultura di Milano è questo 130 90 0,5 cosa sono ricordiamoci 130 è il bilancio all'incirca del teatro alla scala di Milano che nessuno mette in discussione con circa 40 milioni di fondi pubblici 90 è circa il bilancio della cultura del comune di Milano ok dopodiché passiamo agli 8 municipi diciamo così periferici che magari non piacerà ma è una realtà la stragrande parte del territorio è fuori dalla cerchia della 90 91 hanno a disposizione investono 0,5 milioni l'anno per quelli che sono una realtà territoriale di circa 850 mila persone allora se si parla di equilibrio il problema non è portare la cultura in periferia ma il problema è avere una visione cittadina perché poi si parla molto spesso cerchiamo di avere una visione metropolitana la città metropolitana l'area metropolitana di Milano qualcuno dice arriva anche a Lugano ecco dopodiché non ci si concentra su il dato territoriale periferico chi si dovrebbe concentrare avere la possibilità di concentrare esattamente i municipi cioè quella cosa che noi abbiamo detto in questo 2023 che era il centenario degli antichi comuni milanesi che sono stati appunto aggregati a Milano da Lambrate a Musocco piuttosto che a Trenno piuttosto che a Crescenzago ecco questo tipo di realtà istituzionale che si è cercato di sviluppare ma è ferma ecco se non si muove questa dinamica policentrica dell'amministrazione noi continueremo a avere delle periferie che rimangono ai margini quelli che vanno bene vanno bene quelli che vanno male rimangono quelli che vanno male il tema del decentramento è un tema che viene fuori spesso lo scorso anno era appunto il centenario degli antichi comuni aggregati alla città di Milano voi qualche anno fa invece avete fatto un millenario se non ricordo male giusto ricordaci un attimo nel 2000 dunque nel 2017 nel 2017 leggendo il libro che la parrocchia aveva edito nel 2000 relativo un po' alla storia di Figino eccetera ho scoperto che il primo accenno alla presenza di Figino è del 1017 wow evidentemente era era presente anche prima anche perché Figino è sulla strada che al tempo dell'impero portava da Milano in Valle d'Aosta era proprio infatti quarto quarto miglio quinto quinto miglio settimo settimo miglio Figino non c'era il sesto poteva essere il sesto comunque tornando a noi meglio Figino che sesto come nome no vogliono gli amici come nome è un po' più e comunque parlando anche con altri soggetti che a Figino si davano e si danno tuttora da fare per cercare di rendere Figino un posto dove sia bello stare è stato appunto promosso questo millenario questa celebrazione millenario che ha visto praticamente coinvolti tutti i soggetti di questi mille anni qualcuno ne hai vissuto non tutti tutti ma poi ne hai vissuti 50 che sono una bella fetta però un paese un borgo un quartiere una zona cos'è Figino e quanto è cambiata bella domanda noi figinesi mi reputo figinese anche se non di adozione di adozione mi ha scoperto che è nato su in alto è nato dalla parte di Bolzano è nato si vede la sua statura teutonica infatti si vede lasciamo stare sì non lo so perché a volte ci comportiamo come paese a volte ci comportiamo come quartiere a volte ci comportiamo come entità a sé stante perché se qualcuno va a vedere la mappa di Milano vede che noi siamo messi lì a sinistra in alto abbiamo una grandissima fortuna che è quella di essere circondati da campi da prati da rogge da fontanili un posto bellissimo per vivere ci sono delle strutture che diciamo lasciano un po' perplessi più sulla gestione che non sulla presenza però è un posto dove molti dei nuovi mi chiedevi che cambiamenti ci sono stati diciamo che da quando sono arrivato io ogni tanto ogni 5, 6, 7 anni nasceva un palazzo arrivavano 50, 60, 70 famiglie per cui c'era un incremento relativo nel 2015 è stato inaugurato il borgo sostenibile che ha praticamente rivoluzionato totalmente sia il paesaggio che la mappatura di Figino con tutte le conseguenze che mille che altre scusate che altre 600 700 persone su una presenza iniziale di mille iniziali cioè quando è partita di 1700 persone capisci che il 50% in più di persone e diciamo che ancora adesso stiamo cercando di risolvere i problemi di adattamento come conviventi insieme ma direi Figino Figino è uno dei 166 toponimi e quindi delle realtà che compongono la periferia questo qui è il dato noi il centenario ci ha dimostrato che i milanesi non conoscono Milano se non lo conoscono i milanesi figuriamoci gli oltre ormai 300.000 residenti stranieri quindi questa è una responsabilità collettiva della città una responsabilità comune della città perché bisogna che ci prendiamo carico di questa città di ciascun fazzoletto periferico ma anche quelli del semicentro che sono 53 e poi anche di quella ventina forse anche più del centro però su questo siamo meno confidenti quindi l'ABC della città è composto da 239 toponimi perché noi partiamo da Assiano Basmetto e andiamo avanti Capriano dove quando cominciamo a dire questi nomi tutti quanti si perdono ecco allora c'è un vuoto didattico che è da colmare ma volevo un attimino riagganciarmi proprio anche come due flash operativi operativi c'è una realtà c'è una realtà territoriale ma sul territorio ci sono le persone ci sono delle realtà quindi proprio è un po' un evento conclusivo del centenario domani alle ore 15 a Palazzo Reale nella sala conferenze c'è un convegno con le realtà storiche le presenze periferiche che sono quelle scolastiche sono quelle culturali come la banda d'afri di Crescenzago sono quelle assistenziali come le croce verdi eccetera che preesistevano al 2000 al 1923 e tutt'oggi sono operative perché si diceva che cos'è non è un borgo non è un borgo ecco c'è un'identità culturale che è presente appunto quello lì è un convegno più unico che raro perché il prossimo sarà fra cento anni dove ci sono tutti queste realtà promosse appunto dalla presidenza del consiglio comunale di Milano unitamente al tavolo periferie Milano e quindi c'è l'emergere di questa realtà anche aziende quindi è un'occasione da vedere dove quando ricordiamolo domani mercoledì 21 febbraio dalle ore 15 alle ore 17 a Palazzo Reale in Piazza del Duomo 14 perfetto va bene volevi concludere Bruno sporo di mezzo minuto tranquillo siamo abituati con Walter non c'è problema quello che dicevo prima cioè tutta l'organizzazione tutto il seguire tutte le cose ovviamente non lo faccio da solo io ho due amici che con i quali collaboriamo insieme e sono Angelo Martovani del Clavicembalo Verde e Giorgio Barenghi di Corale Ambrosiana un attimo di crisi Corale Ambrosiana che vorrei ringraziare qui pubblicamente perché è chiaro che anche senza loro aiuto riuscirei a fare di meno ti rinvitiamo a ritornare e portarli con te così scopriamo ancora meglio questo mondo che c'è dietro anche perché Angelo fra le tante cose a suo tempo aveva sulle citazioni di Walter aveva impostato ha impostato perché esiste ancora adesso vicino a Cori Milano c'è concerti in periferia ma magari di questo è venuto a parlarne spesso e ne parleremo sicuramente ancora perché come Angelo Mantovani o Clavicembalo Verde fa davvero tantissime iniziative interessanti tra cui appunto anche queste di cui ci avete parlato voi oggi grazie mille Bruno grazie a voi ti rilasciamo andare nel tuo bellissimo borgo di Figino che so che gli vuoi tanto bene è un antico borgo sì io gli voglio voglio bene a Figino voglio bene a Figinesi ma ti dirò di più Figino vuole bene a te guarda secondo me Walter invece noi ci vediamo martedì prossimo va bene sempre qua le periferie sono lì e non le raccontiamo e Walter attentamente le periferie non si muovono non spariscono si risolvono e con questa frase non possiamo che concludere è partito l'applauso anche dalla regia guarda te alla prossima grazie mille alla prossima Focus Periferie finisce qui grazie a tutti grazie a tutti